tra l'ottavo e il nono secolo i franchi tribù germanica convertitasi al cattolicesimo unificarono una consistente parte del mondo occidentale dando vita a un nuovo impero erede della tradizione romana e cristiana grazie al rapporto privilegiato con la chiesa di roma i franchi si sostituirono nella funzione di protettori del papa e della cristianità occidentale ai bizantini sempre più deboli e costretti a continue guerre in oriente la fortuna dei franchi dal quarto secolo stanziati nella regione della mosa inizia quando il re clodoveo 482 511 della dinastia dei merovingi esteso il suo territorio a tutta la gallia si converte al cattolicesimo ottenendo così dal papato il riconoscimento ufficiale del regno alla morte di clodoveo il regno si divide in due parti e il potere passa nelle mani dei maggiordomi o maestri di palazzo nel 687 l'unità del regno si ricostituisce con pipino de ristalle fondatore della dinastia dei carolingi con pipino si instaura un'alleanza politica tra il regno franco e il papato che porterà alla nascita del sacro romano impero è pipino il breve però ad assumere di diritto quell'autorità che i suoi predecessori possedevano di fatto nel 752 depone l'ultimo dei merovingi si fa proclamare re e inaugura la dinastia dei carolingi papa stefano secondo si rivolge a pipino per frenare l'avanzata del re lungobardo astolfo che aveva invaso l'esarcato e il ducato di spoleto il sovrano franco scende due volte in italia e costringe astolfo a cedere al papa i territori bizantini occupati segue un periodo di relativa stabilità e re desiderio successore di astolfo da in spose le sue due figlie ai figli di pipino ma carlo alla morte del fratello carlo manno 771 che era stato favorevole a una politica di pace con i longobardi ripudia la moglie ermel garda scende in italia dove si impossessa del loro regno nel 774 carlo manno ottimo guerriero legislatore statista è ritenuto dagli storici come il più grande imperatore del medioevo durante il suo regno estende i confini del dominio franco dal mar baltico al mediterraneo dall'oceano atlantico alla germania combatte contro i sassoni e nel 778 fonda la marca spagnola nella valle dell'ebro carlo riesce anche ad avere il controllo di quasi tutta l'italia centro occidentale e la notte di natale dell'ottocento viene consacrato imperatore da papa leone terzo nella basilica di san pietro con l'incoronazione nasce il sacro romano impero che avrà vita fino al 1806 il nuovo impero con una popolazione di 15 milioni di abitanti è sacro perché consacrato da una cerimonia religiosa e romano in quanto ricostituito da un sovrano che si sente erede della tradizione romana carlo divide il territorio che considera suo patrimonio personale in contee regioni interne e marche regioni di frontiera che affida conti e marchesi sorvegliati tramite i missi dominici per discutere con i notabili e per emanare le leggi due volte all'anno si convocano delle assemblee di ete e in primavera si riuniscono in assemblea plenaria le gerarchie laiche ed ecclesiastiche carlo per curare l'educazione intellettuale dei suoi sudditi fonda la scuola palatina istituisce scuole biblioteche favorisce l'esercizio della copiatura dei codici nei conventi benedettini da impulso al commercio all'industria alle arti e grazie anche la ripresa degli studi classici questa età è detta rinascita carolingia dopo le lunghe notti le lunghe lotte per la successione seguita la morte di carlo nell'ottocento quattordici si giunge al trattato di verdone che divide l'impero tra i suoi tre eredi l'otario tiene le regioni comprese tra l'italia il mare del nord ludovico la germania e carlo detto il calvo la francia i tre regni vengono per breve tempo riunificati sotto carlo il grosso una volta deposto carlo grosso l'intero si smembra e si formano i primi regni feudali grazie a tutti grazie a tutti